Hehehe sono Pazzox e ben ritrovati in un nuovo video riguardante la cometa Come tutti ben sappiamo in questi pochissimi giorni è apparsa questa immagine nel twitter ufficiale di Fortnite Ma non solo, questa immagine appare anche in modo dinamico nelle televisioni di Fortnite Battle Royale Praticamente dappertutto con uno strano suono Bene forse nessuno non l'ha mai fatto ma questi toni di avviso di emergenza ovvero quei suoni che sentite durante il gameplay Sono in realtà dei toni che possono essere decifrati usando un programma chiamato mini modem E questo è quello che si è riusciti ad ottenere Sono dei codici e dei numeri che possono significare qualcosa Come prima cosa è un sistema di messaggio di allerta Nel secondo codice i civili sono autorizzati a eseguire queste specie di ordini Che in questo mese ci sono dei numeri, questo non l'ho ben capito Della durata di un'ora E la data del tempo è, c'è scritto Julian Day, non so cosa significa 164 giugno 13 Penso sia la fine del pass numero 4 Perché alla fine dura di solito 3 mesi quindi inizio maggio, fine giugno E' un avviso di allarme, di allerta che qualcosa di pericoloso ovviamente sta arrivando ma che dura fino al 13 di giugno Quindi con questi codici sono fuoriuscite delle nuove teorie Essendo che sia a tema supereroi la mia teoria è questa Magari Pinnacoli sarà salva Si distruggerà un pochino per l'atmosfera Qualche caduta di un palazzo Un edificio abbastanza distrutto Proprio nel momento in cui la cometa sta per cadere su pinnacoli pendenti Improvvisamente arriva questo fantomatico supereroe della copertina del season pass 4 Si vabbè si chiama battle pass numero 4 La ferma con un pugno e questa cometa ad esempio cadere su un magazzino muffito E distruggere quella parte della mappa E magari trasformare quella zona della mappa in qualcosa di strano In qualcosa di lunare, alieno o qualsiasi cosa sia O creare appunto un super cattivo E potrebbe essere una teoria abbastanza funzionante Così non solo Pinnacoli verrebbe modificata Ma anche una grande parte della mappa intera di Fortnite Ma non solo mi fa anche molto ma molto strano Che quando cade un pezzo di meteorite Rilascia un pezzo di metallo Ovvero rilascia il solito materiale che noi possiamo farmare tranquillamente Con i pezzi di metallo Quindi perché il meteorite dovrebbe lasciare un pezzo di metallo? Beh non si sa Ho provato anche a zoomare, a rallentare al massimo come è fatto Ed è un sasso nero in poche parole Ho trovato anche un lama vicino, guarda caso Proprio dove c'è stato l'impatto E al momento questo è tutto Questi sono tutti i dettagli che ho potuto trovare Mi sono informato tantissimo Ma ovviamente non ci resta che aspettare il 30 aprile barra primo maggio Dove avverrà sicuramente l'impatto Quindi ragazzi se anche voi avete delle teorie Siete liberi di scriverlo qua sotto nei commenti Noi come sempre ci vediamo con docissimo e carnissimo Jeje